Musica Manca tu una chieda a sas elezioni esamministrativas in 27 comuni a Ardesa Sardigna e a su rinnovo desero Parlamento. Sosseggios a una barra aperta o sapa a duoto de Lampada a Ardesa Strerde Borteidi a Sassundichi Desero, Duminica 9, da Esasette de Manzano a Sassundichi Desero. Entra i sos comuni schiena a Bottare, Tattari, Salighera, Signia, Monserratto e Castellu. E proprio in Castellu cada dia esu no medas or dibattido, sosaddovio, sosconvegno ordezo schimbe candidato a sindico. Emanuela Corda, prosalista alternativa, chi in su programma suova veda mescamente desa tutela des urbichina osirmenti caoso, sa tutela prosos animales e sa battalla contra sosi sprecoso. Giuseppe Varris, prosalista civica 2024, chi puntata su decoro urbano a una città desicura prototus in totus orbichinaosi a Cadora. Claudia Orto, chi in Cagliari popolare, chi va a veda desu un salario minimo comunale dedeche euros a sora, opera sa di adattamento a sa crisi climatica un'economia che non punna pezzi a suo turismo. Alessandra Zedda, prosu centrodestra, chi in su programma proponete una città delibera da esu traffico ed esa oscantierisi, dettorara perre s'anfiteatro romano e s'ippodromo desu poeto, ma per i dettorara fa vedare che in sa comunidade promedio di una dobbio vissu cada mese e sa apertura di un ufficio de prossimidade. Massimo Zedda, prosu campu largo, fa vedata dedare plus cara su decoro desa città, de cacabari in presse esoscantierisi, de apretare esa risposta a desu sufficiosi e a zudare esas ideas imprenditoriales e culturales. A Sa Sardigna, che l'ha una boccada da esintese entre Roma, Viene e Berlino prosi sviluppo desu passadi su desidrogeno, che previdi su vravico di un gasdotto nuovo e sa rete italiana rinnovada tecnologicamente pro trasportare esa vonta energetica a Pulia desu venidore dai su Nord Africa a Sittalia e finza esas Europa Centrale. L'ho data a ischire su senador e desu PD Marco Meloni. Su progetto previdi che isidrogeno rinnovabile lo produano in s'Africa desu Nord, a prodette a Sicilia promedio del gasdotto nuovo pro lo distribuire dai quei a su resto d'Italia e a posti lo va a rarribare a Saustria e a Sa Germania. Pro su senadores a decisione stu nu corfu pro zizula nostra e pro cui su peditas aggiunta de isplicare pro it e a decisu de che abocares a Sa Sardigna e desu progetto e denarres calessun uso spianos alternativoso pro non lassare Sa Sardigna a codia sin sa transizione energetica. Un'occasione di confronto a livello nazionale europeu, che in chi è decideto a livello politico e che in sosa esperto si scientifico supra so stemma a desa gestione e desa tutela desa resursa naturales in sa filiera ar dopo IGP. Semmur fa vedande de esa die organizzata dai origini Italia, sa sozio che riuniti so scusorzio orde tutela desa sproduttos alimentare de origine e indicazione geografica amparada. Sosonor erde meredomo lo sa fatto su cusorzio desu pecorino romano, presente sor dirigente regionale dei col diretti e confrarchicoltura, pro promuovere e ammentare s'importanza desa sostenibilidade in sa filiera ar dopo IGP. Su due mizzi binti battori sanno desa approvazione desa riforma europea desa indicazione geografica e desu G7 agricoltura che sa tafacere in Italia in su mese capidanne. Questa cabauca in dunacena elegante su congresso asso enologo s'arribao a sa e 77 edizione schiabito protagonista su mondo vitivinicole italiano riunio in Sardigna. Castello attistranzao in sa menzur manera a tutti i sospartecipanti e mostrando un turismo enogastronomico internazionale deprimore. Sos enologos italianos e sardos hanno mostrato che i su made in Italy er forte e che si scienze a desa enologia italiana er desa armenzus in su mundo. Sos ospites internazionaler mescamente esas aziendas chi collaboran a chinasso enologo sono abarrausi spantaoso e contentoso de una manifestazione d'importo umano prosu patrimonio vitivinico nus ardu. A curziare sospizinos assi sport previdendo un percurso de duas horas a sacchidins assi scolas elementares de dedicare a esas attividade. motoriasa e sobbiettivo desu progetto sport gioventude desu con i Sardigna che desu duamize e de che otto chere promuovere esa pratica desu sport desa pizzinnia cominciande desu scola primaria. Un programma ad importo pra curziare sospizinos a cusa pratica vittiana desu sport pronora sadie comente cussizza su MS. Magallo plus importante in una provincia che assai inuguro che in sultima indagine desu quotidiano sole 24 ore e sia in capidane duamize e 23 se risultata desa sultima spro pratica sportiva. Es proprio in sambito desu progetto sport gioventude desu iniziativa mandata adennante il desa soziedade atletica sport e vita che questo manzano ha fatto adobbiare prudes e schento spizzino desasi scolas elementares de inuguro. Uno manzano dedicava a sa pratica desu disciplinas sportivas apposta il desu percurso che durava un anno iscolastico. Si sport est una palestra prosu corpur, ma non pezzicur su sorganizzazione mondiale desa sanidade sulta lineata su valore fondamentale prosa crescita e equilibrata di una persona.